amiche amici bianconeri bentrovati nuovo appuntamento con la rubrica tre gran risposte per appunto rispondere alle vostre curiosità e prima di cominciare però come sempre io vi invito ad iscrivervi al mio canale youtube attivando la campanella delle notifiche per poter rimanere aggiornati su tutti i futuri contenuti che pubblicherò qui su questo canale e in fondo alla puntata come sempre vi invito a mettere like al video vi invito anche a dar seguito a questa rubrica qualora aveste delle domande da pormi invece di diciamo uscire fare off topic sotto i video riservatele magari per dare continuità a questa rubrica appunto tre gran risposte inviando una mail che vi lascio qui sotto in descrizione grammo bianconero chiocciola gmail.com dedicata appunto per rispondere poi alle vostre domande comincio ad andare a dare risposta a massimo bizzarri che chiedeva in maniera ovviamente antecedente a quanto poi verificatosi ovvero l'operazione alla quale si è sottoposto ieri il brasiliano arthur volevo chiederti cosa ne pensi della situazione appunto di arthur non sappiamo se si opererà e se può rientrare nella logica di allegri io penso personalmente che meriti un'altra opportunità ciao massimo allora massimo guarda ne approfitto anche se è già ovviamente cosa nota dell'intervento subito da arthur e del quale ho parlato ieri nel corso di un mio video e attraverso il quale ho voluto anche diciamo tutelare un po' all'immagine del ragazzo e chiedere scusa io stesso per avere in maniera troppo frettolosa giudicato diciamo il modus operandi le tempistiche di questo intervento perché come spiegato l'intervento non poteva essere eseguito come tanti tifosi chiedevano nel corso delle vacanze alle quali ovviamente il giocatore diciamo nelle quali il giocatore si trovava perché prima in corso di stagione c'era l'infiammazione in atto calcificazione calda come spiegato dall'amico Mirko di Natale quindi non era operabile soltanto al rientro alla diciamo al juventus training center dopo essersi sottoposto alle visite mediche diritto ed aver eseguito gli esami strumentali si è giunti alla conclusione che questa calcificazione non era più calda bensì fredda non c'era più l'infiammazione in atto e allora soltanto in quel momento lì si poteva procedere ad intervento che è stato realizzato ieri e che quindi lotterrà lontano di giochi dai giochi dal campo di gioco per circa tre mesi dopodiché il giocatore tornerà a disposizione di Massimiliano Allegri sul fatto della opportunità che tu concederesti al brasiliano col sottoscritto sfondo e una porta aperta perché Arthur quello diciamo nel periodo breve di Andrea Pirlo che giocò con diciamo i guardaspalle Bentancur e McKennie a me personalmente piacque parecchio è chiaro è un giocatore che viene da un campionato diverso abituato alla cantera del Barcellona nel senso che è abituato ad un gioco molto corale fatto di fraseggi di tiki tiki a corti orizzontali e quindi deve capire il campionato italiano deve entrare e subentrare in una realtà nuova però io ricordo anche e vorrei che chi da quell'altra parte dello schermo ascolta ricordasse quel breve periodo nel quale la Juventus inanellò quella serie di prestazioni positive e importanti quanto si parlò del brasiliano e della sua precisione nei passaggi nella sua qualità di diciamo possesso palla difesa del pallone uscita dal basso e percentuale elevatissima di passaggi andati a buon fine ecco io per questo in ragione di questo concederei una seconda opportunità al brasiliano mi dicono che Massimiliano Allegri non straveda per il giocatore però la speranza è che una volta tornato a pieno regime libero da problemi fisici possa mettere a disposizione dell'allenatore la propria capacità balistica la propria capacità qualità di appunto nel fraseggio nei passaggi nelle uscite dal basso e possa convincere Massimiliano Allegri a concedergli un'altra opportunità perché io sono convinto che per come ho sempre conosciuto Massimiliano Allegri e la sua voglia di un calcio tecnico fatto di precisione quindi di limitazione degli errori sono convinto che il brasiliano possa tornare utile alla causa bianconera quindi da questo punto di vista Massimo mi trovi assolutamente d'accordo con te veniamo poi al all'amico chiedo scusa all'amico Ferdinando Napolitano che ringrazio per partecipare appunto alla rubrica tre grani risposte mi rinnova i complimenti e quindi grazie due volte ammettendo che in attacco resti tutto così con l'innesto di un giovane tipo Caio George a te l'innesto di un giocatore di questo genere ti risulta potremmo prospettare un attacco con CR7 punta centrale morata sulla sinistra chiesa sulla destra e di bala alle spalle di Ronaldo so che a livello di attaccanti c'è l'imbarazzo della scelta ma in questo modo credo che avremmo anche i ricambi nel ruolo delle ali che so che è un ruolo molto dispendioso cosa ne pensi dunque allora posso dirti Ferdinando che in questo momento pare perché poi sono sensazioni non c'è certezza con i giocatori a disposizione che il modulo del 4-2-3-1 con Di Bala alle spalle di una punta e due esterni sicuramente Federico Chiesa da un lato poi ci sarà da capire come vorrà giocare Allegri con chi sull'esterno possa essere forse il modulo diciamo più più logico da pensare è però vero che bisognerà capire una volta rientrato Cristiano Ronaldo una volta che Massimiliano Allegri avrà parlato con il portoghese come intenderà adottarlo perché la convinzione è che quest'anno il portoghese non potrà diciamo permettersi tra virgolette le bizze che sia concesso in alcune frangenti della stagione precedente credo che Massimiliano Allegri da questo punto di vista avrà e imporrà la legge dell'allenatore sul giocatore per quanto importante il giocatore possa essere e quindi Massimiliano Allegri pur sapendo di avere di fronte e di essere al cospetto di un campionissimo assoluto cercare di legare un pochino le cose senza lasciare eccessiva libertà all'uno e senza andare a strozzare tra virgolette diciamo le capacità sempre appunto del giocatore però ecco è ancora difficile capire se potrà essere il Cristiano Ronaldo il vertice dell'attacco o se Cristiano Ronaldo comunque partirà dall'esterno sappiamo che lui predilige la partenza da sinistra è però vero che quest'anno in questo momento la Juventus vanta Chiesa Kuluseschi quadrado certamente sugli esterni e quindi non sarà di estrema e ad assoluta facilità trovare la quadra dovrà essere bravo Massimiliano Allegri anche capire se Morata potrà essere trasformato nel Mandzukic del suo primo ciclo ad esempio perché è un giocatore disposto al sacrificio e che può anche interpretare il ruolo partendo dall'esterno oppure se Morata sarà utilizzato come diciamo vertice centrale certo è e questo lo ribadisco che Paolo Di Bala resta centrale nel progetto di Massimiliano Allegri perché Massimiliano Allegri ha più volte parlato con il ragazzo e l'ha fatto sentire importante in quelli che sono in quelle che sono le sue idee quindi venendo all'acquisto di un eventuale ulteriore punta in questo momento lo reputo quasi impossibile perché la Juventus deve gioco forza vendere c'è un problema di liste da rispettare e quindi va fatto spazio c'è un problema montengaggi che è da tenere sotto controllo e quindi prima bisogna pensare eventualmente di cedere e soltanto successivamente si potrà procedere con quegli innesti tra cui una punta centrale alla Caio George come tu hai sottolineato certamente è nelle diciamo intenzioni della Juventus sul giocatore nello specifico l'unica cosa di cui io sono a conoscenza è che il suo entourage è in arrivo in Italia per sondare un pochino gli eventuali interessamenti da parte di alcuni club tra cui anche il Milan perché è un giocatore che andrà a scadenza nel dicembre 2021 e quindi potrà liberarsi o a parametro zero oppure a basso costo se prima della scadenza naturale del contratto. Venendo poi all'ultima risposta quella del amico Paolo Passamonti che ringrazio per la domanda molti diventini si lamentano del fatto che diversi big match sono programmati in prossimità delle partite di Champions o della nazionale ovviamente riferendosi al diciamo al calendario appena stilato. La mia ipotesi è che poiché tali partite saranno svolte come anticipi del sabato o posticipi del lunedì potranno essere trasmessi anche da Sky per cui avranno maggiore visibilità. Cosa ne pensi? È del tutto casuale questa programmazione? Grazie e complimenti per i tuoi video che sono sempre interessanti Paolo. Paolo intanto grazie a te dunque cosa ne penso? Beh io voglio evitare qualsiasi tipo di ragionamento complottista le lascio ad altri perché sappiamo benissimo che in passato ci sono presidenti allenatori che hanno all'uso alla diciamo calendario per giustificare probabilmente alcune match infelici o per mettere le mani avanti a fronte di situazioni che poi non sarebbero state come avrebbero voluto. Io credo che il calendario sia uscito in maniera assolutamente casuale ovviamente rispettando dei crismi dei canoni che vengono imposti al lato del sorteggio quest'anno per la prima volta avremo questo calendario asimmetrico che già viene attuato in Spagna se non sbaglio in Premier League non ricordo se anche in Ligan e quindi non è una novità europea anzi ci sono campionati che già si avvalgono di questa tipologia di calendario che quindi da questo punto di vista potrebbe anzi addirittura distogliere qualsiasi pensiero malpensiero ma che poi ripeto il calendario viene stilato oggi quello che accadrà quando sarà il momento di andare a disputare le partite sappiamo tutti che non può essere oggi determinato quindi io non sono assolutamente preoccupato di questo relativamente alla visibilità delle partite sappiamo tutti quanti che questo avverrà che sia sky che sia amazon prime o che sia da zone a trasmetterle poco importa la visibilità certi big match l'avranno a prescindere e poi giustamente in concomitanza di questi big match e dei match di champions ovviamente ci saranno gli anticipi e o i posticipi che consentiranno comunque il giorno in più di riposo ragazzi io ho concluso ringrazio i tre partecipanti alla rubrica spero che ancora altri altri di voi avranno voglia di dare seguito al tre gran risposte scrivetemi la mail la lascio qui sotto in descrizione comunque è grammo bianconero chiocciola gmail.com iscrivetevi al canale youtube tenete attiva la campanella delle notifiche mettete like al video vi do appuntamento i prossimi tre gran minuti ciao e sempre forza juve iscrivetevi al mio canale youtube mettete like al video seguitemi sui social che vedete qui accanto e ci vediamo al prossimo video ciao